L'avvocato ucraino Volodymyr Pilipenko, presidente della Fondazione Centro di Iniziative Sociali della città di Poltava, ha incontrato l'amministrazione comunale di Agrigento per firmare l'incarico a titolo gratuito di referente culturale della città di Agrigento in Ucraina. L'iniziativa è finalizzata a predisporre iniziative culturali congiunte in occasione delle celebrazioni di Agrigento 2020, 2.600 anni di storia dalla Fondazione della città. Innanzitutto vorrei ringraziare al governo provinciale, al comune di Agrigento di dare oggi questo nominame. Ovviamente noi punteremo per collaborazione culturale, artistico, marche e commerciale. Già abbiamo certe idee elaborate su quale ovviamente discuteremo anche oggi durante la giornata con rappresentanti di comune, rappresentanti della provincia di Sicilia. Vogliamo partire con serie delle mostre che riguardano arte ucraina. Qui in Sicilia vengono artisti, anche sarà la mostra della storia dell'arte ucraina, qui ad Agrigento, grande mostra organizzata da noi. A parte vogliamo puntare per collaborazione universitaria, cioè scambio dei studenti e professori. E ovviamente turismo sarà una delle nostre priorità. Io come anche rappresentante di Associazione Nazionale Ucraina dei Golfisti già posso dire che vogliamo elaborare qui il campo dei golfisti ucraini, perché siete regione dove i nostri golfisti possono fare esercizi tutto anno e organizzare qualche torneo tra vostra regione Agrigento e Ucraina. Questa collaborazione con l'Avvocato Volodymyr Pilipenko nasce alcuni mesi addietro a seguito di alcuni miei interessi artistici e culturali con l'Ucraina. Ho raccolto la disponibilità dell'Avvocato Pilipenko a potere divenire il referente culturale per Agrigento in Ucraina e in questo ho richiamato alla massima disponibilità l'amministrazione comunale, che ben volentieri ha voluto coinvolgerlo con questo incarico a titolo gratuito, anche in previsione dei 2600 anni della fondazione di Agrigento. L'evento di Agrigento 2020 vede da oggi una partnership internazionale anche con l'Ucraina, finalizzata soprattutto all'interscambio di natura culturale, all'idea che i nostri artisti possano visitare quei paesi e quindi diffondere anche le loro opere e viceversa che gli artisti ucraini possano venire ad Agrigento divenendo in qualche modo anche nella nostra città personalità di rilievo. Ecco, questo darà nel tempo alle nostre celebrazioni anche un'impronta internazionale che credo serva a tutta la comunità.